Ma perché, perché, guardate che non è così grave fermare un treno, eh. Ma possono farlo tutti, ragazzi. Ma qual è il problema? Lo dice anche lui. Scusa, fammi vedere. Stop del treno su richiesta, lo brigida insiste, ma che privilegio? Ho chiesto una cosa come qualsiasi altro cittadino. Cioè, ha chiesto come qualsiasi altro cittadino, è normale, ma chi di noi non ha mai fermato un frecciarossa? Chiamando la D di Trenitalia. Ma dai, ragazzi, su, cosa ci vuole? Ma poi non solo nei treni, ma anche negli aerei, negli elicotteri. Io quante volte, partendo da Genova col traghetto per la Sardegna, partivo, mi dimenticavo la focaccia e allora chiedeva al traghetto se attraccava a Recco e si mettevano lì. E cioè, no, perché dimenticavo la focaccia. Ho telefonato alla D di Trenitalia e lui mi ha detto, ma certo, ma è un servizio che facciamo regolarmente, mi ha detto. Ieri abbiamo risalito lo Scrivia perché uno voleva comprarsi un giubbotto all'outlet di Serravalle. È stato un po' un casino. Buonasera, Ministro Lollobrigida. Buonasera. Allora, lei ha dichiarato che non si dimette. No, non mi dimetto. Eh, ma è però... Perché tutti potevano scendere dal treno. Eh, ho capito, ma per andare dove, scusi, eh? Beh, per andare nella macchina che gli aspettavo fuori con l'autista. No, ma nessuno ha la macchina con l'autista... Ecco, allora dovremmo fare una legge... Cosa? ...per dare a tutti i cittadini che vanno sul Frescia Rossa un'auto con l'autista. Ma cosa dice? Che possono chiamare l'amministratore delegato di Trenitalia e dirgli io mi fermo a Ciampino. No. Chi ha Ostia, chi si vuol fermare a Viterbo. Ognuno si firma, si ferma dove gli sembra lui. No, ma nessuno ha il numero dell'amministratore delegato, eh? Ve lo do. No, non può, ma non può. E 3-3-4-8-2-4-7-5-9-9-3-2-5-5-6-7. No, 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 no. Per chi chiama da fuori Roma, naturalmente. No, no, veramente non... Un attimo. Chi è? Chi è? Dimmi. Eh. Sì, stanno... Eh? Ah, stavano chiamando tutti l'amministratore... Ma certo, non può dare il suo numero. E che dovevo fare? Eh, cosa dovevo... Ah, dovevo fermarmi prima. È come al solito. Al 3-3-4. Eh sì, ma neanche. E vabbè, e digli di cambiare numero allora. Ma non può. Però dammelo. No. Che se c'è un'emergenza io lo faccio fermare. Grazie, ciao. Ma no, ma scusa. Oh. In ogni caso, perché ci stupiamo del cognato Capotreno? L'abuso di potere è un po' la cifra di famiglia. No, perché in quella casa c'è chi vuole fermare i treni, ma c'è chi vuole anche fermare i giornalisti. Peloni contro Gruber. Pur di attaccarmi, strumentalizzano le tragedie. Lilli Gruber qualche sera fa, parlando di violenza sulle donne, aveva ipotizzato che la destra difendesse i valori del patriarcato. Meloni non ci ha visto più e l'ha sbranata viva. E si capisce, Meloni ormai non c'entra più niente, né col patriarcato né col Gian Brunato. Ma in ogni caso, posto che Lilli abbia detto qualcosa disgradito al governo, allora non può? Cioè, mica tutti i giornalisti sono come Bruno Vespa, no? Cioè, qualcuno che fa delle domande scomode, ci deve pure essere. Ma togli anche scomode. Che faccia delle domande? Buonasera, presidente Meloni. Cosa fa? Hai visto con lo sfanculato? Chi? Il dentino. Ah, Renzi, sì, sì. L'ha nientato? Il Renzino. Ha fatto una battuta. Facce da ponte. No. Col tuo amichetto tuo, quello che si veste ca' palandrana. No, chi? Il cestino di pane in testa. Ah, vabbè. Come si chiama? Ma sì. Gino il Salamino, Bin Salamagna. Bin Salamagna. Bin Salamagna, vabbè, che la magna se lo magni pure. Che quando, chiedile un po', se quando ci fermiamo all'autogrill, noi disgraziati abbassa il prezzo della benzina. Eh, sarebbe bello, sì, sì, sì. Il Salamino negli autogrill non fa la benzina. Cosa? Lui ci va a incontrare lì 007, i James Bond. Vabbè, una cosa vecchia. Famme. Cosa? E so due. Ah, sì, due frecciatine. E so due. Ma lei non deve fare le battute. Io penso solo ai mercati. Ecco, parliamo dei mercati, no? Io penso agli investitori. Sì. E quando guardano l'economia italiana, è come se Marta Fascina guardasse il notario, sai quando le ha aperto la busta alla banca? No, no. 100 milioni. Non credo che gli investitori abbiano quella realtà. Hai capito? Pensa allo spread. Cosa? Che è ai minimi. È basso, è vero. Ti dico solo che il bosone dei X gli ha fatto a cofanetto. Non è così basso, però c'è... Invece mi vengono a rompere le scatole per un trenino che ha fermato Micognato. Micognato. Ma non doveva fermarlo. E che doveva fare, povero disgraziato? Buttasse fuori in corsa? No, ma bastava che... C'è pure scritto non gettare oggetti fuori dal filestrino. No, ho capito. Javier Milei, dall'Argentina il nuovo idolo dell'ultra destra favorevole alla vendita di organi. Javier Milei è contro l'aborto, ma è favorevole alla vendita di organi. Cioè, per Milei la vita è sacra, ma a tranci vale molto di più. E' per quello che gira con una motosega. Non è per alludere i tagli sul bilancio dello Stato, ma è per contribuire al mercato delle dita mozze. Vediamocelo 30 secondi, scusate. Fammi vedere, vai. Guardate. Prema la casta. Prema la casta. Sorda, sico di puta, qui tiene. Signori figli di... Las pelotas voglio a pedire il Stato. Il Stato mettete nel orto la concha puta di tu madre. Ministerio del Trabajo, Empleo e Segurità Sociale. Afuera! Ministerio di Educazione, Adottrinamento. Afuera! Ministerio del Trasporte. Afuera! Ministerio di Salute. Afuera! Ma quando è che tu vai afuera? Testa di... No, perché in confronta Milei la russa sembra Kennedy, ragazzi. Ora sono tutti fatti vostri, in italiano fatti vostri. Perché voi state puniti e dovete pulire. Ma come? È in consiglio comunale. Per evitare le fughe delle piastrelle. Ma no, ma che sono... Avete capito? Teste di grandissimi svampiti. No, no, bandecchi. Ha visto? No, se voglio, parlo un italiano perfetto. No, ho capito, ma lei è in consiglio comunale. Solo che se dico testa di svampiti, non mi capiscono. Ma non importa. Infatti le fughe sono ancora nere. Ma non può far pulire quelle dell'opposizione. Perché? Perché probabilmente rispetto agli svampiti siete più teste di cazzo. No, ma no, è in consiglio comunale. E più avete più questa propensione alla testa di essere cazzi. No, no, senta, bandecchi, scusi. Vabbè, però vedi, non ho capito meglio. Ma non può far pulire... Adesso c'è una fuga più chiara di prima. Sì, ma non può trattare il consiglio oppositorio. È difficile scrivere se l'italiano è corretto quando davanti a me... Sì. Quando davanti a me ho solo dementi. Ma no, ma no, ma non si possono. Volete che dica sproveduti, stolti, inadeguati. Ma neanche quello. E i dementi, e non comprendono l'italiano, devo ricorrere a testa di grandissimo cazzo. No, no. Perché vi siete presi la provincia. Ma lascia, sono cose politiche quelle, no? È vero, Ambrosina? Ambrosina sì. Si sono presi la provincia. Speri che faccia che Ambrosina. Che poi non so che cazzo vi serva, sta minchia di provincia. Ma qui in comune non contate un fallo. La destra è forte, la destra è così. La destra non ha solo personalità, però feroci e un po' volgari, no? Ci sono anche soldati intellettuali, generali di pensiero, maschilisti dell'eloquio, che hanno scritto fior fior di libri. Nel suo libro parla continuamente dei gay. Ne parla più lui della comunità LGBT. è ossessionato. Come mai tutta questa ossessione per i gay? È strano, eh? Buonasera, generale Vannacci. L'uomo e la donna non sono uguali. Ma no, ma non è vero. Se io cominciassi a pensare come una donna, diventerei gay. Ma non esiste, no, non credo. I gay dovrebbero farsi un canale televisivo loro, perché se li vedo su Ray 1, poi magari mi viene la voglia di comprare quegli slip in latex. Vabbè, ma... Con la cerniera cromata davanti. Che ne sa lei, scusi? Che li vendono di due taglie, M e XL. Ah, addirittura. Vabbè, sì, immagino. Ma la M ha le cuciture che prudono, quindi... Vabbè, sì. Vabbè. Quindi meglio la XL. Ma senta, sì, però non è vera questa cosa. Io sono favorevole alla caccia, perché tutti gli animali possono cacciare. Ma che c'entra? Invece proibiamo la caccia agli uomini, ma la consentiamo agli animali? No, ma non si tratta di consentire. E allora perché non mettiamo dei carabinieri nella savana che arrestino i giaguari? Cosa? Che vogliono sbranare le gazzelle. Ma questo è un paradosso, non ha senso. Vedete, la famiglia tradizionale dei leoni è composta da un capoleone con dieci leonesse. E che ci frega, però, questo? Naturalmente lui si accoppia con tutte e dieci leonesse, trasmettendo i suoi geni di dominio e di forza. Sì. Poi va a dormire, ma le leonesse allattano i cuccioli. Ma non ci interessa. Lui continua a dormire, ma le leonesse cacciano, senza lamentarsi con il leone delle ore che dedicano alla famiglia. Ma cosa? Anzi, il primo a mangiare, quando le leonesse catturano la preda è proprio il leone. E fin qui il trattato sui leoni. E io, come un leone, voglio difendere la famiglia tradizionale dal femminismo, che è stata la prima istituzione a demolire il concetto di famiglia tradizionale. Ma non è vero? Ma soprattutto la voglio difendere dai branchi di froci. No, 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 no. Fatemi vedere. Il nuovo partito di Alemanno non è né di destra né di sinistra. Gianni Alemanno non è di destra. Ah, deve essere un omonimo. Anche se però ci assomiglia tantissimo. Comunque, quattro giorni fa a Roma Alemanno ha lanciato il suo nuovo partito. Tutto bene? Se non per un piccolissimo particolare. Due giorni fa c'è stato l'epilogo della sua condanna in Cassazione per finanziamento illecito. Gianni Alemanno ai servizi sociali e sarà fidata a Suor Paola. Non è meraviglioso? Cioè, praticamente al momento il nuovo partito di Alemanno ha solo due iscritti. Lui e Suor Paola. Cinematografico. Buonasera, Presidente Melun. E allora colgo l'occasione. Cosa? Zumba. Cosa fa? No, ma lasci scherzo. Zumba. Carello in avanti. Stop! Cosa fa? Guardate, la Giorgia Melun. Sì, la vediamo. La sconnessa avulsa, Giorgia Melun, è fuori dalla realtà. Sì, va bene. Lei, il marito della sorella di lei, e tutti i ministri come lui che vengono a fare la gita fuori porta a Caivano. Eh, va bene. Perché hanno scoperto che a Caivano c'è la camorra. Ma adesso non è vero che l'hanno scoperto. Oh, c'è la camorra. Vabbè, adesso non faccia lo spirito. Ma dai. Ma sì. Andiamo a tagliare i nastri. Va bene. Che così sconfiggiamo la camorra. È una testimonianza dello Stato. Ma quando vengono loro a Caivano, la camorra purtroppo aumenta. Ma no, no, no. Ci sono i ragazzini che li vedono e dicono e se studiando diventiamo così, allora meglio prendere la tessera da malabitosa. No, non credo. Adesso non è vero. L'unico treno che loro Brigida doveva fermare è quello sotto al quale è finita da un pezzo la dignità sua. È della Meloni. La Meloni che è fuori dalla realtà di questo territorio come di tutta la realtà del mondo. Del mondo. Stop. Buona la prima. Carrello indietro. Ma che fa? In avanti. Torna su di me. Voglio farvi vedere una notizia meravigliosa. Stop. E alla durata limitata dei prodotti, obsolescenza programmata verso l'addio. Beh, non è forse una cosa bella per tutti noi. Vi siete entristiti? Cioè è bello. Vedi come siamo messi male. Cioè il nostro cellulare non dovremmo più cambiarlo ogni giorno. Ma ci durerà 30-40 anni. Si sono entristiti. Capisco che per voi non sia bella ma per questo signore qui è bellissimo. Fammela vedere. Pronto. Buonasera, Corona. Cosa fa? Pronto. Cosa fa? Non si sente. Ma cosa ha in mano? Forse non c'è campo. Buonasera. Che cos'ha in mano? Buonasera, Corona. Cos'ha in mano? Mi si era rotto il microfono del cellulare. E quindi? E se era per loro dovevo buttarlo. E comprare uno nuovo. Lo so, purtroppo. E creare oggettume. Oggettume su oggettume. E come la risolta? Invece vengo dalla cultura del riparare. Bene, bello, bello. Ho risolto con questo nastro. Sì. E col fil di ferro. Ma non credo che... Se si rompe il manico della vanga, nastro e fil di ferro. Sì, ma non può essere... E la vanga torna nuova. Sì, è vero, è vero. Mia mamma si è rotta il femore tre volte. E lì però si va a... Nastro e fil di ferro. Nastro e fil di ferro. No, no. Lì si va all'ospedale. Ecco. No? Non tutto. È tornata nuova. Sì. Non credo, insomma. Per quello che dicono i saggi, dicono. È. Di mamma ce n'è una sola. Sì. Perché la mamma si ripara come la vanga. No, no. O comunque si porta in ospedale, va bene. Una volta le cose si dava valore. Questo è vero, eh. Perché non avevamo niente di niente. È certo, è certo, è certo. Mentre oggi abbiamo troppo di tutto, di tutto. Sì. E lo buttiamo. E lo buttiamo. Ci condizionano persino a buttare il cibo. È. Con le date di scadenza. No, beh, quelle sono importanti. Ma importanti di cosa? Guarda il vino. Che più invecchia, più migliore. Sì, ho capito. Se è buono un barolo del 68, non vedo perché non deve essere buono una lattina di tonno aperta nel 72. Perché no. Perché non può fare... Buonasera e benvenuti al Mentana che vorrei. Dopo lo scandalo del Frecciarossa si è dimesso da ministro Francesco Lollobrigida. Scusate, mi è arrivata un'ansia. Ah, ecco, si è dimesso anche il ministro Giorgetti che ha dichiarato con un cialtrone così. Nel governo non ci sto che figura da cioccolatai. Ha appena rincarato il ministro Tajani, rassonando, rassegnando a sua volta alle evidentemente dimissioni. Scusate, un'altra ansia. Si è dimessa anche la Meloni, ma non da presidente del consiglio, ma solo da cognata. Silvano, per fiore me, Andrea Zalone, Andrea Zalone, my friend, grande fiore me.